Pesaro e Gabice unite dal Parco San Bartolo per un turismo reciproco. Questo lo scopo delle navette gratuite e dello scambio di vetrine tra i due comuni affinché i turisti possono visitarli entrambi, all'insegna del verde, del mare e ovviamente della cultura. Siamo qui per presentare tutte quelle che sono le offerte che Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, mette a disposizione. in particolar modo l'apertura di tutti i musei, di tutti gli spazi culturali che abbiamo nella città di Pesaro dal Teatro Rossini al Conservatorio, al Museo di Rossini, la Casa di Rossini, la Sinagoga, la Domos o meglio tutti quelli che sono il grande patrimonio culturale che abbiamo in città. Abbiamo pensato che Gabice, essendo una località turistica tra le principali non a livello regionale ma a livello nazionale era importante far conoscere tutte quelle che sono le opportunità anche ai turisti che vengono a Gabice anche perché questa collaborazione è rafforzata dal fatto che in questi anni ma soprattutto quest'anno abbiamo attivato una navetta che praticamente va da Pesaro a Gabice e viceversa lungo il parco del San Bartolo navetta gratuita che consente ai turisti di Pesaro o di Gabice di poter andare a visitare anche la località confinante. Rendere i collegamenti così facilitati, così fatti in maniera ecosostenibile con le navette comunque elettriche che collegano a Gabice Mare, passando per Gabice Monte, Baia Vallugola fino ad arrivare poi a Pesaro città sono una grandissima opportunità per tutti i nostri turisti, i nostri visitatori ma anche per i cittadini di poter godere ancora di più di questo meraviglioso territorio che siamo qui insomma a cercare di vendere tutti i giorni a livello turistico. Dalla natura della cultura alla natura della collaborazione che porta i due comuni ad unire e scambiarsi il bacino di visitatori per una maggiore offerta turistica che permetta loro di scoprire appieno il territorio. Una promozione reciproca, siamo qui a Gabice perché è uno dei principali attrattori turistici soprattutto estivi della regione Marche dialoga con Pesaro su tante cose a partire dalla capitale della cultura, hanno fatto una settimana da capitale della cultura a cavallo di Pasqua veramente notevole e ora siamo qui a ufficializzare anche una promozione reciproca che passa per i punti di informazione, per i depiant, per le informazioni e per i tour che vengono messi a disposizione dei turisti che sono a Gabice quindi non solo l'opportunità di andare a Pesaro a sapere anche cosa troveranno quando arriveranno a Pesaro, altrettanto negli iate e gli infopoint di Pesaro è l'attrattiva di poter trascorrere una giornata, una serata e del tempo a Gabice. Un progetto che abbiamo fortemente voluto e condiviso col comune di Pesaro, maggiore sicurezza perché permette di raggiungere il parco e i nostri territori tra Gabice e Pesaro con sicuramente un minore impatto ambientale e permette ai turisti che scegliono la nostra destinazione di raggiungerlo oltre che in sicurezza fermandosi e potendo ammirare tutto il panorama che il parco permette di visitare.